La vocazione è un invito, un invito che il Signore ci fa a seguirlo e ovviamente essendo tutti stati chiamati, per ognuno di noi il Signore ha un cammino, il Signore non ci chiama tutti allo stesso modo, non ci chiama tutti a vivere la vita allo stesso modo e dopo ovviamente c'è lo spazio della libertà, possiamo accettare o no quello che il Signore ci mette davanti.